Stanotte... ...hanno ucciso un Jedi. I Jedi... ...giustificano il loro dominio galattico... ...in nome della pace. Ma quella pace... ...è una menzogna. È una caccia ai Jedi. Era una mia allieva. L'ho addestrata io. Lasciammi il compito di arrestarla. Questa è solo una piccola parte... ...di un piano più ampio. Un mutamento... ...che sposterà gli equilibri. È ora... ...di affrontare il passato. Il destino non è deciso al posto tuo... ...da un'anonima forza. Se vuoi tirare il filo... ...e cambiare tutto... Tiralo. Che cosa sei?